Parlare del tuo sport, ricordiamolo, particolarissimo ad un evento sportivo. Questa sera è stata davvero una grande emozione, un grande onore per me essere invitata qui perché non ho ottenuto sicuramente tutti i risultati che hanno ottenuto questi giovani ragazzi ma spero di aver portato comunque un esempio perché avendo praticato la ginnastica avendo ottenuto comunque dei risultati buoni a livello ticinese e a livello svizzero non mi sono arresa davanti al fatto che non potevo più continuare, era arrivato comunque il momento di smettere e ho trovato un altro obiettivo e quindi spero di aver dato un esempio a questi ragazzi. Sabato avrei una gara non poco faticosa, come ti sei preparata? Questo inverno ho lavorato molto sul nuoto, ho nuotato davvero tanto, non ho mai nuotato così tanto come in questi ultimi mesi e ho anche corso tanto, quindi la preparazione c'è, è una gara di 30 km e 6 di nuoto in Francia, quindi una gara nel mare e vedremo dai, spero, sono pronta più dell'anno scorso spero che vada bene, soprattutto un po' paura per il freddo ma credo che andrà bene dai grazie